Dona a noi la pace Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. E io salvo il saluto. Per la comunione vi invitiamo a rimanere ai vostri posti perché passeranno i sacerdoti. Chi desidera fare la comunione resterà in piedi. Gli altri possono comodamente sedersi. Vi ricordiamo che la comunione va consumata subito davanti al sacerdoti. Grazie. 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 costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio Onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Amen. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti, possiate diventare coeredi dei santi. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti e buon ascolto. Grazie a tutti.